L'indirizzo informatico aziendale del Polo Bianciardi di Grosseto quest'anno ha realizzato sei progetti legati all'esperienza di alternanza scuola lavoro. Lavorando al fianco di vari committenti di settore abbiamo creato presentazioni multimediali, podcast, brochure, ebook e abbiamo allestito anche un laboratorio informatico. Il centro commerciale Aereale Antica ha commissionato l'elaborazione di un questionario di marketing rivolto sia ai clienti abituali sia ai potenziali per definire le strategie utili a una loro fidelizzazione. Per Wire Studio gli alunni hanno realizzato un laboratorio informatico utilizzando componenti in disuso destinati alla raccolta differenziata che assemblati, configurati, collegati in rete e dotati di tutti i servizi e le applicazioni di computer moderni verrà donata ad una struttura scolastica del territorio. Per la banca della Maremma la commessa Se il risparmio avrà un futuro domani prevede la creazione di ebook e brochure rivolte ad un target dei ragazzi della scuola media inferiore con l'obiettivo di attrarre la loro attenzione sul tema del risparmio con la guida del robottino Wall-E. Per la fondazione Bianciardi di Grosseto è stata prodotta una presentazione multimediale sulla vita e sulle opere di Luciano Bianciardi, sugli aspetti giuridici e contabili dell'ente e pubblicato un articolo di giornale sul sito della scuola. La PHPSRL ha commissionato la realizzazione di podcast in un formato scaricabile per la presentazione dei vari indirizzi dell'Istituto Polo Bianciardi di Grosseto. Obiettivo principale è stato quello di sperimentare un modo più efficace di comunicare e rappresentare a terzi la mission, l'attività che svolge e i mezzi a disposizione di un'organizzazione. Per il liceo artistico è stato realizzato un ebook contenente un fumetto di presentazione su lavori prodotti dagli alunni che permette di visionare le tante produzioni create.